Tutto pronto per la casa di Babbo Natale in pieno centro a Pene, iniziativa curata nel dettaglio dalla Proloco Città di Penne ai nostri microfoni Gabriele Vellante che è il responsabile. Ma quanto è stato difficile organizzare un'iniziativa del genere? Di tempo minimo due mesi. Di attività grazie ai signori volontari qui presenti che si sono alternati nonostante anche problematiche familiari per far sì che riesca questa bellissima realtà. Siamo stati anche fuori al fine di portare a Pene delle novità, abbiamo acquistato anche con nostri soldini queste belle cosette che la popolazione che verrà a visitare potrà benissimo toccare e ammirare con sincerità. Che dire, noi ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione questa location molto grezza e l'abbiamo cercato di renderla il più possibile veramente adatta per questa data, ossia il Regno di Babbo Natale che stiamo cercando di portare a Pene. Quando sarà aperta e che orari rispetterà? Saranno aperti nei fini settimana, partendo dal giorno primo di dicembre fino al 22, pomeriggio dalle ore 15 alle ore 21. Sono tutti fine settimana e sabato alla domenica e abbiamo la possibilità di far assaggiare anche delle specialità qui fuori all'atrio che c'è l'ex convento San Giovanni Evangelista e ci sono anche altri espositori che andranno lungo il borgo di Babbo Natale e in ciò devo ringraziare la popolazione del borgo di Colle Castello e San Giovanni Evangelista che si sono veramente prodigati al fine che il borgo venga allestito nel modo migliore attinente al Santo Natale.